salve a tutti i giocatori io comunque lo sapevo che appena avrei finito di registrare sarebbero uscite nuove carte comunque dato che forse molto probabilmente domani non riuscirò a fare video ve ne beccate un'altra volta due in un giorno raga ho capito lo so sono un po' pesante però va bene supporti eroi del destino che a me stanno piacendo veramente tanto cioè è un archetipo che a me piace tantissimo queste carte magari non sono proprio il oh mio dio di hero diventerà meta però vabbè sono supporti che ci fanno sempre piacere destiny hero destroy fenix and forces mostro livello 6 o superiore eroe più un mostro eroe del destino i mostri che l'avversario controllano e perdono 200 per ogni mostro eroe nel cimitero effetto rapido possiamo distruggere una carta che controlliamo una carta dell'oppo cioè una carta sul terreno quindi una carta che controlliamo poi potremmo spaccarci due carte quindi ok se questa carta viene distrutta in battaglia effetto di una carta possiamo attivare questo effetto spiegelare un mostro eroe del destino al cimitero durante la prossima stand by face stand by face? vabbè denier eroe del destino se viene normalato o spiegelato possiamo mettere un mostro eroe del destino bandito nel deck o nel cimitero e piazzarlo in cima quindi prendiamo o un eroe bandito oppure un eroe nel cimitero potevano scriverlo attaccato o no bene se abbiamo mostro eroe del destino oltre a oltre a lui credo sul terreno o nel cimitero possiamo specialare questa carta al cimitero ok denier al guy questo non l'ho capito perché dice se controlliamo un altro mostro denier al guy sul terreno possiamo specialare almeno non ho capito che è denier al guy vabbè brick of destiny targettiamo un dragon del destino finale un mostro di livello 8 o superior del destino e controlliamo lo distruggiamo se lo facciamo l'avversario schippa la main phase no noi schippiamo la prossima main phase ok possiamo bandire questa carta ci metto a raggiungere la magia trappola che indica destini dragon o destini hero nel nome e se lo facciamo lo aggiungiamo alla mano eccetto questa carta ok non l'ho capito bene perché ci spacchiamo noi mostri e schippiamo la main phase 1 ha una meccanica veramente veramente strana questo destiny hero perché anche la magia che non ti fa pescare va bene che quella comunque è fatta per plasma e quindi ci sta perché te lo rende immune a tutto però qui spaccarci un mostro nostro ah no ok skip your opponent next main phase ok no scusate mi era sfuggito un opponent ok la skip all'avversario scusate ma la skip all'avversario e infatti ok si la skip all'avversario poi questa è bellissima l'ho letta prima veramente fantastica macchina rainforest per me nel mazzo mac cittadelle ci sta perfetta anche se è un mostro oscurità ma comunque è veramente forte possiamo specialarla soltanto dal cimitero bandendo qualsiasi mostro macchina il cui totale di livello fa 12 o più poi possiamo attivare l'effetto natale per turno quando l'avversario attiva l'effetto di una carta durante la battle phase spaghiamo metà dei life points negriamo l'attivazione e l'hop perde metà dei life points se questa carta viene distrutta in battaglia un effetto di una carta possiamo specialare fino a tre mostri banditi macchina il cui livello sia 12 o meno quindi effetto ricalate lui mac cittadella attivate l'effetto mac cittadella spaccate lui spaccate questo qui e distruggete tutti i mostri a 4.600 o inferiore e in più se lei viene rotta vi regala tre mostri quindi è veramente un plus devastante per mac eh per mac cittadella è veramente forte cavolo poi king of the sky prison questa poi magari io sono ignorante e non conosco l'archetipo no mi fa tanto pensare eh a un'altra specie di carta un po' simile alle divinità anche per artwork cioè un po' tipo come i malvagi avatar o una roba del genere è una roba probabile che sono tutte mie congetture e che non ci abbia capito una favella ma comunque andiamo a leggere gli effetti durante la mine phase possiamo rivelare questa carta alla mano eh fino alla fine del turno dell'avversario quindi la riveliamo fino alla fine del turno dell'avversario se lo facciamo eh se lo facciamo la carta rivelata questo effetto ok le carte esettate sul nostro terreno non possono essere distrutte dagli effetti delle carte quindi la teniamo rivelata fino al prossimo punto dell'avversario non ci può spaccare le carte esettate se una maggeotrappola viene attivata possiamo specializzare questa carta alla mano dopo se questo effetto è stato attivato quando questa carta era rivelata possiamo settare una maggeotrappola direttamente dal deck ma la bandiamo durante la phase del turno sicuramente avrà qualche meccanica qualche trigger delle carte che si attiveranno perchè io mi ricordo molte carte non mi ricordo se di quali archetipi quando venivano bandite attivavano degli effetti potrebbe essere o una carta di archetipo oppure una carta che potrebbe essere messa in generale perchè qui non si parla di archetipo si parla solo di carte esettate al momento quindi direi non male non male quindi queste erano le carte supporto di oggi due video in un giorno non so a volte può essere pesante scusate ma comunque voglio sempre portare gli aggiornamenti quindi chiedommi il mente venia poi queste credo che siano carte più interessanti del cilindro magico che è un caricatore quindi dai noi ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti i giocatori e mi raccomando continuate a seguirci per ogni novità riguardante Yugi ok